Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Cristiano Rui UTV. Un appuntamento davvero speciale questo. Come avete visto nella copertina, si tratta di una pazza idea di mercato e il volto, non potete non riconoscerlo, è quello di Mario Ballotelli. Una pazza idea di mercato, vedremo tra poco per chi, perché ancora non ve l'ho rivelato. Nel frattempo, una novità importante, perché come sempre il nostro canale YouTube Cristiano Rui UTV è associato al sito e canale YouTube scommesse.commentiarecensioni.com e anche da questo punto di vista, dopo vi spiegherò una piccola novità. Ma andiamo immediatamente nel dettaglio. Intanto ci troviamo a Cornaredo, lo stadio di Lugano, ormai lo riconoscete e non è casuale la nostra presenza qui questa mattina per realizzare questo video. Mario Ballotelli, come sapete, è un classe 90, quindi ha compiuto da poco 30 anni, anagraficamente ancora giovane, ma per il calcio, per il calcio che conta, è già abbastanza vecchio, nel senso che ha tutte le carte in regola per essere a fine carriera o qualcuno dice a carriera già finita, sicuramente sul viale del tramonto. In questo momento si sta allenando al Franciacorta, una squadra della provincia di Brescia, dove tra l'altro Ballotelli è nato e è cresciuto e dove ha anche vissuto Brescia la sua ultima esperienza da professionista, un'esperienza molto negativa dal punto di vista sportivo, la squadra della retrocessa e lui ha giocato davvero poco e male, ma anche dal punto di vista professionale, dato che ci sono stati numerosi contenziosi tra lui e il club di Cellino. Adesso Ballotelli vuole voltare pagina, si sta allenando con impegno, naturalmente in pochi, in pochissimi, sono rimasti a credere nelle sue potenzialità da giocatore. Ma proprio per questo motivo Ballotelli, che non dimentichiamolo, è stato l'ultimo giocatore che ha trascinato il Milan in Champions League, perché l'anno che è il suo miglior anno del Milan, diciamo la stagione 2012-2013, lui è arrivato a gennaio dal Manchester City e ha trascinato il Milan proprio alla qualificazione della Champions League con i suoi gol, qualcuno polemicamente dice anche con i suoi rigori, ma insomma bisogna saperseli procurare e saperli battere. Non ci dimentichiamo quello finale contro il Siena, che è servito al Milan a staccare la Fiorentina e appunto a cedere alla Champions League per l'ultima volta, perché da lì in poi il Milan non si è più qualificato alla competizione più importante e più remunerativa. Parliamo ormai di tanti anni fa, perché era il 2013 e adesso si appresta a cominciare il 2021, quindi otto anni fa, davvero un'eternità dal punto di vista sportivo e calcistico, soprattutto per il Milan. Non dico che Balotelli debba essere preso dal Milan come porta fortuna, come amuleto, visto che l'ultima volta che il Milan è andato in Champions è stato grazie a Balotelli, ma questo potrebbe essere diciamo uno dei tanti risvolti. Il risvolto più importante è sicuramente l'aspetto economico, perché a differenza del Balotelli dell'epoca, che prendeva oltre 5 milioni di euro netti a stagione, e questo è un Balotelli che si accontenterebbe di molto, 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 molto meno e sicuramente il suo sarebbe un ingaggio compatibile con quelle che sono le attuali esigenze economiche, le attuali casse del Milan. Altro aspetto significativo, il procuratore di Balotelli, lo sappiamo, Mino Raiola, che in questo momento sta discutendo tanti contratti con il Milan, quello di Donnarumma, quello di Ibrahimovic, una discussione imminente, ma anche quello di Romagnoli, insomma, un procuratore che è molto attivo in questo momento con la società rossonera e fagli un favore, anche spendendo poco, come potrebbe essere quello di rilanciare o provare a rimettere in Serie A Balotelli, secondo me sarebbe un'idea. E poi c'è anche l'aspetto sportivo, il Milan che non ha una rosa smisurata, manca il famoso vice Ibrahimovic, che certamente non è Balotelli e certamente non si può trovare sul mercato, però avere un elemento in più, un rinforzo in più in attacco, anche se bisogna valutarne naturalmente le condizioni fisiche, psicologiche, potrebbe essere una cosa in più. Ecco, magari sicuramente non sarà il giocatore che fa voltare la stagione, soprattutto il Balotelli visto nelle ultime annate, però potrebbe essere un qualcosa in più, che non guasta e che costa poco. Qualcuno di voi, qualcuno di quelli dell'ascolto dirà potrebbe guastare perché Balotelli è uno che fuori dal campo, a livello di gruppo, può creare dei problemi, può creare delle turbative. Io però penso una cosa, che in questo momento il gruppo costruito da Pioli, grazie all'apporto fondamentale di Zlatan Ibrahimovic, è un gruppo sano, solido. E quando un gruppo è sano e solido, non deve temere la famosa, tra virgolette, Mela Marcia. Tra l'altro un modo in cui lo definì proprio Silvio Berlusconi poche settimane prima che lui arrivasse al Milan nel 2013. Dunque, secondo me, se un gruppo è sano, non deve avere paura di Balotelli, anzi, deve porsi l'obiettivo, molto molto difficile, non c'è dubbio, di provare, non dico a redimerlo, ma a dargli un senso ancora dal punto di vista calcistico. E chi, se non Zlatan Ibrahimovic, potrebbe essere l'ultimo a provarci? Del resto Ibrahimovic è stato l'unico a riuscire a sollevare le sorti del Milan di uno spogliatoio che ormai sembrava compromesso e l'ha fatto davvero in pochi mesi a modo suo. Perché non provare a farlo anche con Mario Balotelli? Il procuratore è lo stesso e Ibrahimovic ha visto proprio sbocciare nell'Inter la stella di Balotelli. Qualcuno in quell'Inter accusava Balotelli di avere atteggiamenti troppo simili a quelli di Ibrahimovic senza averne nell'età, nel carisma e neanche le capacità tecniche e tattiche. Ibrahimovic è cresciuto un po' all'ombra di Ibrahimovic assumendone forse prevalentemente gli aspetti negativi, i difetti di Ibra. dell'epoca. Ecco potrebbe essere proprio Ibrahimovic come è riuscito a correggerli su se stesso questi difetti, a provare a correggerli anche su Balotelli pur trattandosi di due giocatori molto molto diversi, sia dal punto di vista tecnico ma ancora di più dal punto di vista caratteriale. Ma insomma, io dico che se qualcuno può fare il miracolo di dare un senso agli ultimi anni della carriera di quello che è rimane un talento smisurato, Balotelli, ma che purtroppo non è mai riuscito a sfruttare in campo le sue doti, insomma questo è proprio Zlatan Ibrahimovic. Io dico dunque che Balotelli al Milan a basso costo, praticamente a parametro zero, ma con un ingaggio molto molto contenuto anche nell'ottica di avere buoni rapporti con Raiola per i rinnovi imminenti potrebbe essere una buona idea. Ma dico anche che se il Milan, e lo posso capire, e lo posso concepire, non volesse tuffarsi nuovamente in questa avventura, in questo ritorno che sarebbe anche romantico in un certo senso, allora perché no? Do un input, faccio un invito al mio amico direttore generale del Lugano che gioca qui e che in questo momento è primo in classifica in Super League, perché no? A basso costo potrebbe essere un'idea, un'idea sicuramente d'immagine ma anche dal punto di vista tecnico potrebbe essere un'idea appunto per il Lugano. Tra l'altro Balotelli se non vado errato ha ancora una casa a paradiso qui a pochissimi chilometri dallo stadio e quindi potrebbe essere anche comodo per lui. Scherze battute a parte, la butto lì, chi lo sa? Magari il presidente Renzetti che ha sempre grandi idee potrebbe concepire se Balotelli non trova un posto in Serie A, un suo arrivo, un suo debutto in Super League naturalmente a Lugano. Io butto lì l'idea. Ringrazio come sempre tutti voi per avermi seguito sul mio canale YouTube, campionato che sta per ricominciare, tra l'altro sia Lugano sia Milan sono prima in classifica e sono attese da due trasferte molto molto complicate. Lugano in casa del Servetta, Ginevra il Milan in casa del Napoli, una gara molto difficile e faccio l'in bocca al lupo al mio amico anche lui Bresciano come Balotelli Daniele Bonera che ha avuto la fortuna di vedere debuttare in primavera e poi in prima squadra con Carlo Mazzone. Adesso debuterà in panchina e speriamo che per lui sia un debutto fortunato ma speriamo soprattutto per noi milanisti. Per scommettere su queste partite, perché no, su Napoli-Milan e su Servetta Lugano potete beneficiare dei consigli di scommesse.commenterecensioni.com, il sito ma anche il canale YouTube e trovate nel commento di questo video il link nuovo dove lo staff di scommesse.commenterecensioni.com ha realizzato un video appunto con delle strategie, dei consigli precisi su come scommettere, davvero una teoria sulla strategia della scommessa e vi consiglio di guardarlo, ascoltarlo e seguirlo con grande attenzione, naturalmente sempre stando appunto attenti e accorti sul fatto di non spendere più del dovuto nel gioco in generale anche e soprattutto sulle scommesse ma seguite i consigli anche nella gestione del vostro bankroll di scommesse.commenterecensioni.com vi ringrazio ancora per avermi seguito e ci vediamo al prossimo appuntamento con Cristiano Ruiu TV, ciao!